Cosa c'è dentro te? Forse tu non lo sai, c'è un piccolo cuore di panna. C'è un cuore di panna per noi, nei momenti peneri. Cornetto Algida, cuore di panna. Se tu lo vuoi, un cuore di panna per noi. Se tu lo vuoi, un cuore di panna per noi.